Strumenti, invece, queste procedure, questo approccio, è un approccio con modalità e strumenti comuni. Quindi, benvenga che le scuole possano mantenere la propria specificità, però ci deve essere un momento in cui questi aspetti poi si mettono a confronto. Non c'è possibilità di miglioramento senza confronto. Sia a livello personale, come feedback personale, come persone, sia, e questo è il tema nostro di oggi, come scuola, come organizzazione. Anzi, più queste organizzazioni sono articolate e complesse, più necessitano proprio di attenzione di questo tipo. In letteratura questi aspetti sono iper approfonditi e potete venire, e anzi, magari alcuni riferimenti ce li diamo, e quindi permettetemi, da qui in avanti, di entrare invece su alcuni aspetti proprio di tipo specifico, legato agli strumenti. Al di là della continua interlocuzione, soprattutto con le scuole paritarie, perché hanno proprio sia un carisma, sia delle peculiarità che bisogna assolutamente rispettare, al di là di questo, tramite poi mail, contatti continui, eccetera, eccetera, Gli elementi comuni li trovate all'interno della piattaforma nazionale sul sistema di valutazione. Questa è la piattaforma e trovate all'interno anche alcune note proprio di indirizzo specifico per le scuole paritarie. Quindi tutti gli strumenti, tutte le comunicazioni che abbiamo a livello comune, le troviamo all'interno del sito del Ministero, piattaforma nazionale sul sistema di valutazione. Proviamo allora da qui in avanti a entrare nello specifico. Mi è stato chiesto, e lo faccio volentieri, di toccare la novità che è la rendicontazione sociale, quindi lo strumento per fare in modo che tutte le scuole statali e paritarie arrivano per la prima volta in Italia a dare pubblica evidenza dei propri risultati, ma per arrivare alla rendicontazione dobbiamo fare alcuni passaggi anche con alcune novità che adesso velocemente vediamo, che vanno dal rapporto di autovalutazione collegato, libero per ogni scuola, piano di miglioramento e determinante è la definizione della propria offerta formativa tramite il piano triennale dell'offerta formativa. Questi sono i fondamentali. Questi che vedete qui declinati con le date sono i fondamentali su cui ci concentriamo, che non casualmente sono, li troveremo poi, ve li mostrerò alla fine, all'interno dell'evidenza pubblica del Ministero che è praticamente scuola in chiaro, il portale della trasparenza sugli elementi della scuola è scuola in chiaro. La tempistica, io farò sempre in questo in modo e non leggerò mai le slide, quindi faccio un ragionamento e voi vedete poi questi argomenti attraverso le slide. So che anche il collegamento vedono le slide, quindi vedete voi le cose che dico tramite, se no se leggo le slide vi addormento tutti, non è questo il caso, cioè vediamo invece di argomentare le cose. Le slide verranno mandate a tutti, quindi non state a fare foto o altro. Infatti, quindi perché questa slide? Perché la tempistica implica per la prima volta che da settembre a dicembre, in realtà per le scuole paritarie adesso, cioè con inizio di ottobre, abbiamo questi strumenti aperti. Mentre precedentemente, le scuole, molti di voi lo sanno, c'erano delle finestre temporalizzate per un strumento. Abbiamo deciso di tenerli completamente aperti da settembre a dicembre, di modo che le scuole possano in contemporanea lavorare in modo integrato, in quanto voi mi insegnate che c'è una normativa che ci obbliga a alcuni passaggi e c'è invece una logica che deve essere poi ricostruita e tenuta in mano dalle scuole. tant'è che tutti voi avete già fatto il piano dell'offerta formativa e arriviamo solo adesso a fare la rendicontazione, ma la logica dei processi ci insegna che prima dovremmo verificare come è andato il triennio precedente, al fine poi di pianificare il triennio a seguito. Quindi c'è una normativa che ci obbliga a alcune tappe. Però la scuola deve tenere insieme invece la logica e da qui ecco perché teniamo in contemporanea aperti tutti gli strumenti, in modo che gli strumenti possono fare di loro dialogare, ma dialogano solo nel momento in cui quel gruppo di lavoro interno alle scuole, ovvero coordinatore, didattico, riferimento gestionale delle scuole, prendono in mano gli strumenti al fine poi di valorizzarli in un'ottica di integrazione. Passiamo subito al primo aspetto che è quello che va dall'autovalutazione alla rendicontazione, in quanto, ripeto, noi toccheremo e vi mostrerò in modo molto, credo, semplice, anche perché è intuitiva, la piattaforma sulla rendicontazione. Ma se le scuole non hanno ben lavorato sul rapporto di autovalutazione, adesso qualche difficoltà se la trovano. Vediamo subito come risolvere le difficoltà, cioè l'input, l'interesse da parte nostra non è evidenziare le difficoltà, ma risolverle. C'è un approccio che dovremmo tutti sostenere insieme ed è che nel triennio precedente, ma soprattutto in questo che si apre, dobbiamo consolidare, rafforzare alcune consapevolezze e poi da qui anche alcune prassi e gli strumenti, ma soprattutto con, come si accennava prima, una collaborazione aperta. Il nostro obiettivo è, primo, non nocere, cioè non facciamoci del male e facciamo in modo che questi strumenti davvero servano. Da qui entriamo allora nel merito dell'autovalutazione. Questi sono gli strumenti, fra di loro integrati, e abbiamo mostrato questa slide perché c'è un livello proprio di sequenzialità, la sequenza, nei sistemi di valutazione determinante e l'incipit, per arrivare alla rendicontazione, l'inizio è l'autovalutazione con alcuni strumenti collegati con l'autovalutazione. In realtà tutti questi strumenti hanno un disegno comune. Prima quindi di arrivare agli stessi strumenti, rapporto di autotazione, piano triennale, rendicontazione, vediamo qual è il disegno sottostante. Queste slide che adesso vi presento da qui in avanti, già in altri incontri le abbiamo presentate con la FIDE, con tutte le scuole paritarie, riprendiamole perché valgono dal rapporto di autototazione alla rendicontazione. Il disegno è questo. Per il sistema nazionale di valutazione, la qualità di una scuola sta negli esiti formativi ed educativi degli studenti. Quindi è vero che una scuola ha una molteplicità di servizi e di progetti, però il nucleo portante, la situazione proprio determinante da un punto di vista proprio anche della pulsione, del cuore, del punto di riferimento di una scuola, sta negli esiti degli studenti. Se noi ci fermassimo come sistema di valutazione a dire esti formativi ed educativi, fra l'altro il lessico è un suo valore, formativi ed educativi, in realtà probabilmente saremmo tutti convinti, probabilmente anche nel confronto fra di noi saremmo in accordo, ma saremmo probabilmente a un livello ancora di superficie, probabilmente anche di retorica della valutazione. Quello che ha fatto il sistema di valutazione è dire, bene, per noi gli esiti formativi ed educativi sono quattro aree di riferimento che determinano la qualità, e quindi man mano entriamo all'interno, ovvero risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate, risultati nelle competenze chiave, risultati a distanza, e su ognuno di queste aree noi poniamo degli indicatori, dei descrittori e dei dati comparativi. Quindi capite che non è tanto una modalità per essere d'accordo sulla valutazione, ma è proprio un tragitto che si intende costruire, un percorso che a nostro avviso porta a un'idea di scuola, un'idea di scuola e un'idea di miglioramento di quel servizio. Questo è il ragionamento. Poi entreremo nel merito di cosa sono queste aree con questi descrittori. Il secondo passaggio che si è definito è che se il centro di riferimento sono i risultati, i esiti formativi ed educativi, questi risultati sono determinanti dai processi. Nulla di nuovo, cioè io banalizzo quello che abbiamo in letteratura, quindi permettetemi in cinque minuti di banalizzare proprio dei passaggi. Anche questi processi per noi sono stati definiti e qualificati e vedete che c'è una parte di processi che si rivolgono in particolare ai docenti, pratiche educative, didattiche. Quindi quel risultato scolastico è determinato in particolare da quella professionalità del docente, da quei processi di insegnamento che determinano apprendimento che qualificano la scuola. E quindi il punto di riferimento su cui dovremmo porre più attenzione il sistema di valutazione per ora su questi passaggi è debole, ma la variabile determinante è quel docente in classe, in laboratorio, dove volete voi, che con quell'ora di lezione ti può salvare l'esistenza, ma te la può anche rovinare, a secondo di come si ponono i confronti di quegli studenti. Quindi la dimensione di tipo relazionale, in un'ottica di tipo didattica, di pratica educativa, è alla fine l'elemento determinante. Se come sistema di valutazione, per ovvi motivi che qui potete immaginare, non fateli dire a me, non riusciamo del tutto a concentrarci su questo aspetto, nulla toglie che le autonomie scolastiche, in particolare le scuole paritarie che hanno ancora più autonomia, su questi passaggi qui possono porre l'attenzione. E so che molte scuole paritarie qui pongono davvero la loro attenzione, perché è quello che determina poi quei risultati degli studenti. Se ci concentriamo semplicemente sullo studente, esiti degli studenti, e le pratiche educative, quei processi di insegnamento e di determinazione di apprendimento, colleghi, non abbiamo la scuola. Perché avremo prettamente un rapporto di insegnante, docente, discente. La scuola è un'organizzazione. E l'organizzazione ha le sue regole, tant'è, che voi lo sapete benissimo, coordinatori all'interno delle scuole paritarie, docenti all'interno delle scuole paritarie. Nel momento in cui cambiate scuole paritarie, o cambiate quel contesto, cambiate approccio, stile. In particolare le scuole paritarie che hanno un carisma, che hanno una storia. Quindi capite che l'organizzazione è determinante. E noi oggi ci concentriamo sugli strumenti dell'organizzazione. Perché se questa organizzazione non si dà degli strumenti, significa che non ha chiarezza rispetto al suo percorso. Non sto parlando delle scuole paritarie, sto parlando di un sistema che fa un servizio pubblico, statale e paritarie. Tant'è che l'incipite dell'organizzazione, tutti ci lo insegnano, della cultura dell'organizzazione, è saper bene dove si vuole portare quella scuola. Quell'idea, quella missione, che diventa poi determinante rispetto alla quotidianità. Ecco perché il sistema questi elementi poi li riprende in modo specifico, ma il disegno è questo. E quindi capite che quello che stiamo cercando di fare è proprio di costruire alcune consapevolezze comuni, su cui dialogare, ovviamente. C'è un ulteriore passaggio, e voilà, cosa è successo qua non lo so, però lo riprendiamo. C'è un ulteriore passaggio, ed è che, se ci fermassimo prettamente a studenti, docenti e organizzazione, in realtà saremmo, permettetemi ogni tanto un po' di libertà anche, dei viechi statalisti. Cioè, nel senso che, faremmo un servizio senza possibilità di caratterizzarlo per il contesto di appartenenza. ed ecco perché contesto e risorse sono determinanti anche rispetto a quell'organizzazione che determinano a quelle prassi, che determinano quei risultati. Ma l'elemento di contesto su cui collocare la scuola è quello che dà poi l'identità a quella scuola. Tant'è che, dal 275, autonomia scolastica, 99 in avanti, qualunque scuola deve passare da un disegno di tipo nazionale, che non c'è più, a una peculiarità dell'offerta formativa, che si caratterizza poi anche qua in uno strumento, che è il piano dell'offerta formativa, nell'autonomia POF, nella 107, piano triennale dell'offerta formativa. Che se andate a leggere nella normativa precedente, 99 o 107, troverete come progetto identitario della scuola. Cioè, dove la scuola, definito così, si dà un'identità, e l'identità è collegata con quel contesto di riferimento. Non può essere altrimenti. Ecco perché questi elementi si tengono insieme, si devono tenere insieme. Tenete conto, fra l'altro, che in Italia abbiamo un approccio molto differenziato in relazione ai contesti. Ed è difficilissimo in Italia tirare uno standard di riferimento, perché abbiamo situazioni davvero molto frammentate, plurali. E quindi è giusto rispettare le situazioni rispetto al proprio contesto. Cioè, contesti diversi, immaginatevi la pluralità di contesti in Italia, anche in situazioni socio-economicamente degradate, determinano proprio la stessa offerta formativa e più delle volte gli stessi risultati. Nulla toglie però di porre degli elementi per tutte le scuole di approccio al miglioramento in tutti i contesti, in qualunque situazione. Il rapporto di autovalutazione, velocissimo, è costruito in questo modo. non lo tematizziamo oggi, non è questo il tema specifico di oggi, ma vedete che riprende gli elementi di prima. e in effetti vedete che gli elementi di prima, che vanno appunto dagli esiti ai processi, al contesto, vengono declinati in aree, e adesso non ve l'ho esploso, ma chiunque di voi può andare all'interno del sistema di valutazione, lo vede esploso, queste aree poi sono definite in indicatori, in descrittori, con dei dati. Perché ho riproiettato, io vi ho riportato su questa slide, perché la finalità intrinseca, e adesso esplicitiamola, del rapporto di autovalutazione è portare le scuole non semplicemente a un'autoanalisi. Molte scuole, anche prima del DPR 80, avevano processi di autoanalisi, però non avevano indicatori comuni. Molte scuole mettevano in atto sistemi di qualità, però non avevano passaggi comuni. E comunque, non tutte arrivavano a individuare le priorità. La finalità, ultima, del rapporto di autovalutazione è, in effetti, tramite quell'autoanalisi che contestualizza gli elementi della scuola, perché è proprio l'autovalutazione che ti permette di contestualizzare, fare in modo che ogni scuola, in modo autonomo, libero, intraprendente, responsabile, andate avanti voi, individui le proprie priorità. Qui non ci sono delle priorità predeterminate, ma la scuola, proprio perché si identifica in quella situazione, dice il mio punto di partenza è questo, il mio processo di miglioramento è questo, il traguardo che intendo raggiungere, piano triennale, triennale, nei prossimi tre anni è questo. E in effetti, tutte le scuole hanno individuato, eccole lì, al termine del processo di autovalutazione su uno strumento comune, per la prima volta, io dico finalmente, a livello nazionale, hanno definito le loro priorità e i loro traguardi. La situazione delle priorità e dei traguardi, già nelle noti iniziali dal 2014 in avanti, erano evidenziate, cioè proprio in un'ottica di accompagnamento alla scuola, come la necessità proprio di individuare poche e chiare priorità e dei traguardi che siano misurabili. Perché se non abbiamo adesso definito poche e chiare priorità e non abbiamo un ben definito in un'ottica anche di rilevazione e possibilmente di misurazione quei traguardi, adesso nella rendicontazione, poi ci arriviamo, capite che qualche difficoltà l'avremo. Ma l'incipit è stato questo, l'inizio è stato questo. Tutti elementi che trovate già documentato anche nelle note di quattro anni fa e di cinque anni fa, le aree di processo all'interno del rapporto di autovoltazione erano queste, perché? Perché dopo aver definito quelle priorità, noi non lo toccheremo oggi, su questo non facciamo un approfondimento, ogni scuola in modo libero poteva usare propri strumenti per pianificare il miglioramento. Non è che perché la scuola ha individuato priorità e traguardi lo Spirito Santo ci aiuta e avviene il miglioramento. No, il miglioramento avviene se lo accompagniamo, se lo sosteniamo con degli strumenti e da qui le aree di processo non sono nient'altro che la possibilità di presidiare quegli elementi fondamentali che fanno il miglioramento nella scuola. Ve ne sono altri ma certamente, ma anche nelle aree legate agli esiti vi possono essere altri elementi di riferimento. Il sistema di valutazione si concentra su questo. Nulla toglie che la scuola possa fare anche altre scelte e in rendicontazione vedrete che se ha fatto altre scelte potrà rendicontarlo. Quindi massima libertà su questo. Però uno zoccolo comune di riferimento ci deve essere, altrimenti non c'è sistema pubblico punto di riferimento comune per un'offerta qualificata. Questo è il ragionamento. Questa è la situazione. Alcune slide le troverete altre no perché sui dati secondo me benvenga di poter evidenziare in momenti di questo tipo però più in un'ottica proprio di consapevolezza da parte nostra. Come vedete questo è il rapporto delle scuole quindi vi ho portato proprio in un specifico sulle scuole paritarie perché fra di noi stiamo ragionando e benvenga fare un ragionamento in relazione a quello che accennavo prima ovvero alla definizione in questo caso qua non entrando nel merito ma permettetemi in modo molto basso molto proprio di basso profilo quantitativo è chiaro che gli elementi di qualità sono assolutamente più significativi se vorrete possiamo fare anche un elemento di analisi di come sono le qualità di quelle scelte insieme con le scuole paritarie però se vedete anche solo quantitativamente secondo me piano piano ci stiamo avvicinando ovvero vedete i numeri interni a quei quadrati che sono il numero delle scuole quindi bene o male le scuole si concentrano come vedete su obiettivi cioè obiettivi di processo priorità pochi e chiari priorità vedete che tutti si concentrano su due tre quattro priorità lì dove c'è la zona rossa va bene cioè quella è una zona pertinente perché come vi dicevo prima nella nota se vuoi presidiare quelle priorità e accompagnarle deve averne poche altrimenti rischi di avere un livello di dispersione e in effetti vediamo però che abbiamo anche un livello di dispersione bisogna fare in modo che quelle scuole bisogna fare in modo insieme non perché c'è una circolare che lo dice nulla avviene perché c'è qualcuno nelle segrete stanze ministeriali che scrive qualcosa ma solo perché c'è un livello di consapevolezza e di chiarezza su questi passaggi vedete che c'è ancora delle scuole che hanno troppe priorità e rischiano quelle priorità probabilmente di essere in quanto tante non presidiate non curate non accompagnate e adesso in rendicontazione un problema queste scuole l'avranno perché se sono date qualcosa come 10, 12, 16 priorità è chiaro che adesso qualche problema in rendicontazione si troveranno lo risolviamo questo problema ma per dire che da qui in avanti c'è un approccio che dovrebbe essere sempre più condiviso e questo è un passaggio molto semplice vedete anche il numero delle priorità inserite quelle di prima era all'interno del rapporto di autovalutazione questo invece è lo specifico delle scuole paritarie per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa perché e adesso ne avete evidenza gli strumenti fra di loro dialogano non è che noi facciamo il rapporto poi facciamo il piano di miglioramento poi facciamo il piano triennale poi facciamo la rendicontazione e chi si è visto si è visto questi strumenti hanno un valore se fra di loro sono integrati ed hanno un disegno organico alla scuola e vedete anche qui il numero delle priorità dove ben venga in questo caso i numeri sono molto bassi perché vedremo da qui in avanti spero che sempre più le scuole paritarie possano usare la piattaforma del piano triennale la piattaforma del rapporto di autovalutazione e della rendicontazione è una piattaforma obbligata la piattaforma del piano triennale è libera cioè le scuole che vogliono la usano quelli che non ritengono opportuno non la valorizzano e ripeto sono su un aspetto banale che è il numero delle priorità ma ciò che davvero sarebbe significativo è poi vedere cosa c'è scritto in quella priorità quindi da qui in avanti io farò un ragionamento generale voi pensate alla vostra scuola in questo caso da un punto di vista del numero ma soprattutto di cosa c'è scritto qual è quella priorità quel traguardo che la scuola si è prefissata vedete anche come sono state in questa cosa qua distribuite le priorità è sempre lo specifico delle scuole paritarie e vedete che c'è una distribuzione differenziata in particolare e io dico apprezzo va bene c'è una concentrazione delle priorità da parte delle scuole paritarie sulla parte legata ai risultati scolastici ovvero quegli elementi che qualificano l'esito formativo dello studente molto collegati con la scuola molto controllati dalla scuola in un'ottica di responsabilità e vedete poi a seguito la parte collegata con risultati a distanza e competenze chiave cittadinanza competenze chiave risultati a distanza ma attenzione che adesso lo vedremo nella rendicontazione se una scuola si pone sulle competenze chiave dovrebbe costruire strumenti poi di rilevazione quindi strumenti di rilevazione sugli apprendimenti sono ormai diffusi strumenti di rilevazione sulle competenze qualche approccio anche di ricerca in particolare nelle scuole paritarie anche di ricerca sarebbe interessante perché è lì che si pone in particolare tutto un elemento legato a non le hard skill non quelle skill dure standardizzate ma quelle soft skill che poi fanno davvero il futuro dei nostri studenti le competenze dei nostri studenti e quindi si apre un discorso interessantissimo allo stesso tempo però lo so adesso la riomini di contazione difficilissima quindi il sistema questi elementi li apre poi anche la ricerca o delle scuole o delle associazioni delle scuole dovrebbero anticipare il sistema perché se il sistema che anticipa diventa sempre un approccio di tipo adempitivo lo devi fare se sono le scuole ad anticiparlo invece possono orientare il sistema su elementi più significativi che le stesse scuole interessano e ultimo passaggio prima aree legate agli esiti qui vedete le aree legate ai processi io lo faccio a livello di estrazione di tutti i dati delle scuole paritarie ma ogni scuola paritaria può pensarlo per sé o anche per aggregazioni da un punto di vista valoriale che le scuole fra di loro possono avere perché sarebbe interessante capire se gli elementi sono comuni altrimenti c'è un valore prettamente enfatizzato e non poi invece indirizzato perché gli strumenti intendono fare questo intendono indirizzare è ovvio che così come anche le scuole statali il punto centrale che determina poi la qualità di quella scuola è collegato come vedete con il 25% a curriculum progettazione e valutazione è lì che si fa poi la differenza condivido pienamente ma in dubbio che vi sono anche molti altri aspetti che vanno dall'inclusione alle relazioni eccetera eccetera definizione priorità e traguardi come dicevamo prima che sono gli aspetti che avevamo già evidenziato in passato e ve lo dico perché poi vedremo anche alcuni strumenti che vi supportano su questo una rendicontazione chiudiamo col rapporto di autolutazione quello è l'orizzonte se è stato fatto nel triennio precedente è chiaro che adesso potremmo fare rapporto di autolutazione potremmo fare un certo lavoro sulla rendicontazione ma nulla toglie che l'esperienza magari anche da migliorare da qualificare meglio del triennio precedente ci aiuti a definire il vero rapporto di autolutazione perché finora abbiamo fatto i tentativi che è quello che va dal 19 al 22 ovvero quello che è aperto adesso cioè se in precedenza abbiamo approcciato il sistema anche con un po' di difficoltà e non sempre fra l'altro di chiarezza da qui in avanti invece gli elementi dovrebbero essere sempre più chiari ecco i passaggi da un punto di vista delle date prima definiti genericamente per il rapporto da settembre a dicembre per quanto riguarda le scuole paritarie abbiamo aperto e adesso vi mostrerò anche i dati il censimento praticamente a giugno alla fine di giugno e poi vi evidenzierò anche perché da qui in avanti abbiamo chiuso il questionario con l'inizio di settembre da qui in avanti aggreghiamo i dati vi troverete caricati i dati nel rapporto di autolutazione per chi ha fatto il piano triennale con la piattaforma piano triennale e adesso vediamo il rendicontazione il censimento perché il censimento veloce proprio focus sul censimento perché nell'esperienza pregressa appunto tutto anche il sistema deve migliorare anche il sistema di valutazione noi facciamo questo per supportare le scuole all'interno del miglioramento ma lo stesso sistema ha l'ottica del miglioramento nel primo approccio ci siamo accorti che avevamo difficoltà nella identificazione delle scuole paritarie e basterebbe dire ci siamo incontrati nel gruppo di lavoro a livello ministeriale che sulle scuole paritarie abbiamo più codici che offerte formative sostanzialmente abbiamo oltre 13.000 codici identificativi quando sostanzialmente le scuole paritarie si aggirano su 2.000 qualcosa tenete conto che questo per le scuole statali invece negli ultimi anni si è definito cioè ogni scuola ha un suo codice identificativo nulla toglie che sotto quel codice madre vi siano una pluralità di offerte formative che va dalla scuola dell'infanzia primo ciclo primaria secondaria primo grado secondo grado ma nulla toglie che se stiamo parlando adesso ritorniamo all'incipit di prima se stiamo parlando di una idea collegata con un'offerta formativa quell'offerta formativa si deve identificare e si deve identificare dentro una struttura che poi è anche una pluralità altrimenti è inutile cioè altrimenti avremo una pluralità di situazioni fra di loro frammentate l'idea del sistema non è questa pur nell'attenzione che bisogna avere perché un conto è parlare di grandi organizzazioni come probabilmente anche questa scuola che è una bellissima scuola un conto è parlare anche di piccole organizzazioni e quindi nel rispetto anche della specificità della propria situazione le situazioni sono queste vedete che sostanzialmente i dati relativi al censimento che abbiamo chiuso il 9 di settembre quindi il censimento in questo momento qua è chiuso ma adesso vi dico come poter comunque accedere se siete interessati si sono identificati qualcosa come 1700 istitute si sono collegati ulteriori scuole ma rispetto come dicevo alle oltre 2600 scuole che noi abbiamo come identificazione siamo sostanzialmente al 70% quindi ancora abbiamo un 30% di scuole che deve che è già entrato nel sistema perché quasi tutte le scuole hanno fatto il rapporto di autoroutazione ma hanno una pluralità a volte hanno fatto anche più rapporti di autoroutazione più piani dell'offerta formativa e non hanno un identificativo l'idea è sostanzialmente quella del fare in modo che le scuole si identificano ripeto con un'offerta formativa definita attraverso un istituto che è l'istituto di riferimento e poi sotto una pluralità di offerte collegate con l'istituto da qui in avanti le scuole che non si sono ancora censite noi suggeriamo che entrino nel censimento è vero che noi l'abbiamo chiuso ma l'abbiamo chiuso perché era collegato il questionario scuola quindi il questionario scuola non lo riapriamo perché ci serviva per collegare i dati che voi ci fornivate al fine poi di portarli all'interno del rapporto di autovalutazione e quindi quello l'abbiamo chiuso se tutte le scuole non hanno fatto il questionario scuola non implica nulla non implica nulla il questionario non era per identificare le scuole e nemmeno per ma era per dire diteci come stanno i vostri processi che poi noi su questi creiamo praticamente dei benchmark vi ridiamo le risposte quindi le scuole che anche non hanno fatto il questionario adesso entrando si troveranno i dati non si troveranno il dato della propria scuola perché non hanno messo il dato della propria scuola nel questionario quindi noi non è che possiamo precaricarglielo però loro sanno qual è il dato della loro scuola e si troveranno invece i benchmark a livello regionale nazionale e per alcune situazioni anche differenziato per offerta formativa primo ciclo secondo ciclo tipologie all'interno del primo ciclo del secondo ciclo questa è la situazione quindi riassumendo benvenga che le scuole da qui in avanti possono rientrare all'interno del censimento e definire la propria situazione l'idea del censimento è questa cioè aiutare le scuole a non fare più volte il lavoro ma dire la mia offerta formativa è qualificata attraverso questo istituto questo istituto è definito attraverso questi plessi queste modalità il principale e poi quelli collegati a seguito quando uno sarà identificato vede che entrando nel sistema si trova praticamente una scrivania dove gli viene precaricato il rapporto e la rendicontazione mentre per quanto riguarda il piano triennale quello invece dicevamo è libero quindi non è un passaggio obbligato è libero e bisogna identificarsi all'interno del SIDI rapporto di autolutazione quest'anno nel 2019 quindi poi quando parliamo della rendicontazione vedremo i rapporti precedenti adesso vediamo invece quello che va dal 19 al 22 che è fondamentale perché è quello che apre la triennalità è quello che apre la nuova triennalità avete visto che abbiamo proprio essenzializzato ulteriormente ridotto indicatori e descrittori la compilazione del questionario credo per coloro che l'hanno fatta il 70% delle scuole che sia stata semplice in quanto era collegata con gli indicatori mentre precedentemente arrivava separata non si capivano i collegamenti e vi è un collegamento esplicito con i processi quindi quando uno definisce quelle priorità deve capire anche qual è il collegamento con il processo obiettivo di processo per il miglioramento questa è la situazione complessiva dal punto di vista del nuovo rapporto di autolutazione cosa succederà questa è una novità per supportare le scuole benvenga ripeto anche altre idee che le scuole possono mettere in atto ma l'idea è proprio quella del accompagnarle le scuole tutte le scuole per la prima volta mettiamo in atto una modalità di questo tipo non adesso ma quando le scuole chiuderanno è il rapporto di autolutazione e quindi da adesso che chiudono il tasto pubblica non è ancora attivo ovviamente perché prima bisogna che le scuole ci lavorino un attimo probabilmente lo renderemo attivo dal metà ottobre in avanti adesso decideremo ma comunque non ora nel momento in cui una scuola cliccherà praticamente in pubblica al fine che il rapporto vada in scuole in chiaro vada in scuole in chiaro abbiamo messo all'interno queste funzioni che ripeto non sono un elemento di controllo tant'è che le scuole che vogliono possono farne a meno cioè cliccano pubblica gli escono delle indicazioni non le vogliono considerare vanno avanti no problem ma cosa diciamo nel momento in cui la scuola ha messo le proprie priorità semplicemente sulle competenze chiave quindi delle quattro aree ha messo le proprie priorità i propri traguardi sono le competenze chiave noi gli diciamo fai attenzione perché probabilmente quando arriverai alla rendicontazione o ti strutturi un percorso di rilevazione con delle evidenze o qualche difficoltà l'avrai perché noi come ministerio non ti caricheremo nessun dato quindi fai attenzione cioè prendi consapevolezza ad esempio se delle scuole secondo passaggio si sono date degli elementi di miglioramento ovvero loro nella loro autovalutazione hanno detto io sono carente ovvero autovalutazione da 1 a 3 cioè voi leggete intanto che io dico insomma i vari passaggi su alcune aree e su quelle aree dove loro si sono detti io sono carente non si mettono un obiettivo di miglioramento priorità traguardo il sistema gli dice fai attenzione perché tu ti sei dato ti sei detto che sei in difficoltà su quell'area il rapporto nasce per migliorare le difficoltà valuta tu sei opportuno investire in quell'area grazie scusate parallelamente potrebbe essere che la scuola si sia dato un giudizio molto positivo su tutte le aree 6 e 7 anche qui diciamo va bene può essere che tu abbia comunque degli elementi di miglioramento prova a vedere perché proprio eccellente in tutto può essere che non sia ma sempre come suggerimento e da ultimo elemento sulle prove standardizzate che sono quelle praticamente su cui abbiamo standardizzate standard di riferimento se in una scuola anche qui si è data 6 e 7 ovvero dice io in quest'area su queste prove standardizzate sono prove invalsi non vorrei essere frainteso cioè invalsi io sono eccellente e poi noi che abbiamo i dati collegandoli con la scuola vediamo che quella scuola proprio in quei risultati non è eccellente ovvero è sotto la media o sotto le SCS cioè le scuole che hanno gli stessi elementi di partenza sostanzialmente noi diciamo fai attenzione questa è dicendo una cosa che a noi a sistema non risulta quindi noi nel momento in cui voi cliccherete pubblica vi diamo queste funzioni possiamo integrarle possiamo integrarle ancora di altre funzioni ma le funzioni migliori non sono quelle che facciamo noi dal centro ma sono quelle che fate voi con la riflessione ma comunque queste le mettiamo a disposizione quindi quando uno clicca pubblica e ha questi elementi sostanzialmente il sistema gli dice attenzione vuoi andare avanti riclicca e allora va in pubblicazione altrimenti rivedi perché probabilmente c'è qualcosa probabilmente che deve essere rivisto piano di miglioramento velocissimo vi è il rapporto di autolutazione che ripeto è comunque l'elemento determinante perché è il primo passo che dà l'avvio al sistema e capite bene che il cammino inizia da lì sostanzialmente sul piano di miglioramento non c'è per normativa la normativa dice che dobbiamo avere punti di riferimento e poi la vedremo nel rapporto di autolutazione e nella rendicontazione ma il miglioramento è lasciato libero ogni scuola può usare approcci e strumenti che ritiene opportuno l'Indire aveva messo a disposizione un proprio strumento che fra l'altro moltissime scuole hanno usato oltre 5.000 hanno detto sono entrate oltre 3.000 hanno usato in questo momento quello strumento è dismesso e alcuni di questi elementi concordamente con l'Indire vi ritrovate all'interno della piazzaforma piano triennale in quanto la normativa ci dice che è obbligatorio agganciare il piano di miglioramento al piano triennale quindi è un passaggio obbligato all'interno del piano triennale e quindi avendo fatto la piattaforma piano triennale non abbiamo fatto nient'altro che mettere all'interno un livello di sintesi dei passaggi fondamentali che qualificano un piano di miglioramento ma la scuola può qualificare senza nessun problema ultimo passaggio prima di arrivare alla rendicontazione è il piano triennale dell'offerta formativa anzi diciamolo bene la vera rendicontazione non nasce dal rapporto di autovalutazione la vera rendicontazione nasce dalla progettualità che è il livello come dicevo prima identitario della scuola che ha come documento di riferimento normativamente definito il piano triennale dell'offerta formativa perché oggi non arriviamo a definire la rendicontazione sul piano triennale dell'offerta formativa perché vi sfido anzi facciamo così se qualcuno di voi soffrisse di insonnia vi consiglio un passaggio che vi proprio ammazzerà tutti entrate in scuola in chiaro tutti i piani triennali sono pubblicati cliccate una qualunque scuola entrate proprio al piano triennale e poi provate a entrare anche in altre scuole e avere altri piani triennali noterete che non c'è punti di riferimento in comune non c'è una struttura se non c'è una struttura come facciamo a dare conto adesso come ci dice la normativa con elementi identificativi e comparativi fra le scuole basterebbe dire e ripeto io per andare veloce uso delle esemplificazioni banali e mi perdonerete basterebbe dire che potrete trovare per dire quanto siamo disorientati e quanto necessario che spero il sistema di valutazione vi dia degli orientamenti secondo me parliamone basterebbe dire a livello quantitativo banalità che troverete piani triennali di 2-3-4 pagine e piani triennali ebbene sì di ne abbiamo trovato uno di 870 pagine cioè capite che qualche difficoltà l'abbiamo come facciamo adesso a dire le scuole rendi contate sul piano triennale vuol dire metterle in difficoltà ecco perché non siamo in un'ottica di arrangiamoci ma siamo in un'ottica proprio invece di confronto accompagnamento sostegno dentro un processo che qualche difficoltà ce l'ha ma può essere una grande opportunità il piano triennale è definito così per normativa appunto vedete è proprio lo straccio della normativa l'identità definisce le linee strategiche della scuola ma quello che volevo mostrarvi in realtà è il principale riferimento per la rendicontazione questa è la situazione che abbiamo trovato come vi dicevo prima quello che volevo mostrarvi è questo cioè è una struttura se anche non volete usare la piattaforma no problem però avere una struttura comune potrebbe essere significativa quello che fa la piattaforma è dire alle scuole attenzione ve lo diciamo noi del ministero tutto quello che abbiamo messo all'interno è normativamente previsto perché se andassimo a vedere se le scuole hanno rispettato gli elementi qualificanti del piano triennale della normativa sinceramente no quindi almeno lì tutti i passaggi normativi li trovate se non intendete usare quella piattaforma ripeto va benissimo però almeno diamoci una struttura di riferimento e questa struttura alla fine questa è la pianificazione del piano triennale che anche qui si riapre praticamente a settembre e va avanti fino a noi abbiamo messo dicembre la normativa dice ottobre ma tutti gli anni poi arriva una proroga dicendo alle scuole andate avanti perché in realtà il piano triennale serve per l'offerta formativa collegata con le iscrizioni e quindi per sé la data legittima è la chiusura delle iscrizioni è vero che prima lo presentate meglio è però di per sé lì il punto di riferimento e vedete in effetti che noi abbiamo messo dicembre perché tiriamo tutti gli strumenti fino a dicembre poi ogni scuola sarà libera di chiuderli quando vuole ogni scuola è libera di chiuderli quando vuole ma quello che volevo mostrarvi sostanzialmente non ve l'ho messo però ve lo dico io è questo che il piano di offerta formativa che per ora abbiamo identificato attraverso questi quattro aspetti per chi è entrato vede che c'è un quinto aspetto che titola guarda caso rendi contazione perché l'idea qual è? L'idea è proprio quella che le scuole dovrebbero lavorare così ovvero monitorare accompagnare la propria offerta formativa e i progetti sostanziali della propria offerta formativa perché ogni scuola via l'offerta generale si qualifica per alcune caratteristiche quegli elementi dovrebbero essere monitorati accompagnati e allora in automatico arrivare la rendi contazione tant'è che noi quest'anno ad aprile apriremo quella sezione monitoraggio e rendi contazione le scuole inizieranno a monitorare i propri passaggi fondamentali e allora fra tre anni si arriverà senza difficoltà la rendi contazione perché è chiaro che se diciamo adesso rendi contati la scuola dice oddio cosa faccio ma è chiaro che se la scuola ha accompagnato questo processo come dovrebbe essere nel tempo non ha nessuna difficoltà e questo è il ragionamento libero da parte di ogni scuola ogni scuola faccia come ritiene opportuno per chi vuole per il sistema di valutazione accompagnato non è e allora ci arriviamo alla rendi contazione il tema di oggi è questo sostanzialmente e se volete io vado veloce su questo solo per evidenziarvi che quindi proprio due minuti un minuto noi abbiamo già avuto le normative sulla rendi contazione anzi se proprio volete basterebbe dire che già nel 98 ovvero prima dell'autonomia scolastica 275 si volevano fare due regolamenti uno sull'autonomia che abbiamo visto e l'altro che non abbiamo mai visto che è in letteratura ecco l'ho citato sulla valutazione perché perché è vero che tu hai l'autonomia ma la vera autonomia pretende che tu dia conto evidenza di cosa hai fatto con quell'autonomia altrimenti non c'è autonomia ed ecco perché ve l'ho segnato in rosso quella declinazione del DPR regolamento che doveva essere sulla valutazione portava come ultimo passaggio che i risultati dovevano essere pubblici 1998 e in effetti molte scuole sono adoperate per intraprendere personalmente liberamente dei percorsi di rendicontazione quello che facciamo adesso è il passaggio ulteriore cioè di vedere uno strumento comune se volete c'è addirittura una direttiva della pubblica amministrazione 2006 quindi questa è una direttiva non era un'intenzionalità come quella di prima questa è pubblica che dice che i servizi della pubblica amministrazione la scuola è il più grande servizio l'amministrazione pubblica dovrebbero avere degli strumenti per dare conto i propri risultati e consiglia con delle linee guida il bilancio sociale che non è lo strumento che noi useremo perché è molto complesso molto sofisticato ma benvenga che le scuole che hanno strumenti come il bilancio sociale bilancio di missione bilancio di sostituibilità bilancio di impatto possano valorizzarli e noi li faremo valorizzare per dire come questi elementi sono già normati cioè non è la normativa che ci manca in Italia lo stesso 150 nel ciclo delle performance pubblica amministrazione portava che alla fine bisognava rendicontare i risultati e così via potremmo andare avanti io invece arriverei al DPR 80 perché questa è la nostra norma vedete eccolo lì definito il procedimento di valutazione che la stessa normativa diceva dall'autovalutazione alla rendicontazione e adesso arriviamo alla rendicontazione questi passaggi vengono declinati dalla stessa normativa e per la rendicontazione è interessante evidenziarlo non si parla di rendicontazione libera da parte delle scuole benvenga che le scuole possano mettere in atto propri strumenti io stesso molti di voi lo sanno ho fatto il dirigente scolastico preside per oltre 20 anni e già nel 2000 2004 noi facciamo forse eravamo anche fra le prime scuole in Italia facevamo documenti di bilancio sociale cioè dicevamo con il nostro istituto ecco qua il valore sociale del nostro istituto e molte scuole hanno fatto altrettanti documenti qui il riferimento è bene attenzione non sei tu come facevamo noi all'inizio degli anni 2000 che te la suoni e te la canti perché chiaramente noi dicevamo quello che volevamo ma adesso rendicontiamo con indicatori comuni dati comparabili i risultati della scuola questa è la normativa quindi capite che su questi elementi adesso dobbiamo appunto approfondire come è strutturato lo strumento c'è un ulteriore passaggio perché in realtà il DPR 80 diventa applicativo con la direttiva numero 11 e vedete che già nel 2014 si evidenziava che le scuole sarebbero state chiamate alla fine del triennio a dare conto con un primo rapporto di rendicontazioni sociali i propri risultati quindi era già chiaro in normativa era già scritto non è un problema di scriverlo come dicevo prima è un problema adesso proprio di sostenere questo passaggio questo vale la pena di evidenziare perché qualche scuola qualche equivoco l'ha avuto ed è questo stiamo parlando del 2014 quindi la triennalità doveva essere nel 2017 in realtà arriviamo al 2019 quindi non è vero che stiamo parlando di un triennio stiamo parlando di un quinquennio ma perché? perché a seguito del DPR 80 2013 arriva la legge 107 2015 che stabilisce da lì la triennalità e quindi non abbiamo fatto nient'altro che allinearci come era doveroso alla legge ed ecco perché il triennio è 2016-19 da qui in avanti tutto è triennale cioè la legge 107 il sistema di valutazione aveva anticipato la legge definendo l'opportunità di costruire l'offerta su base triennale è stato il primo la legge 107 ha detto oh Dio forse è vero bisogna dare alle scuole più tempo perché l'annualità è un tempo stretto per il miglioramento e per la qualificazione di offerta formativa quindi da qui tutto diventa triennale piano dell'offerta formativa piano della formazione piano digitale cioè tutto diventa su base triennale ed ecco perché l'allineamento al 2019 le fasi e i tempi sono queste e quindi arriviamo quest'anno e quindi da quest'anno apprendiamo come fare bene perché la vera rendicontazione guardiamoci negli occhi la faremo bene nel 2022 capiamo come arrivare a fare una buona rendicontazione tramite una prima applicazione sostanzialmente di quest'anno l'approccio che intendiamo dare è questo velocemente prima di arrivare alla piattaforma definiamo almeno fra di noi che anche voi diventerete riferimenti per come coordinatori di dati come riferimenti per i gestori diventerebbe probabilmente il punto di riferimento per la rendicontazione io spero non il cireneo che deve portare la croce al posto della scuola ma spero proprio dentro con la comunità professionale perché se l'idea è ne prendo uno e lo mortifico facendo fare qualche strumento è un disastro va bene adesso la penitenziagite cioè va bene agire con penitenza però non più di tanto facciamo in modo che sia un percorso condiviso allora da qui affiniamo anche un po' il lessico noi non stiamo parlando di rendicontazione noi stiamo parlando di rendicontazione sociale io per brevità dico rendicontazione ma adesso qualifichiamoci se vogliamo c'è proprio una declaratoria su questo su cui dobbiamo raffinare tant'è che per arrivare alla rendicontazione sociale dobbiamo avere comunque una chiarezza rispetto a cosa dire rapporto sociale da qui la rendicontazione e capite che nella scuola potremmo avere anche altri strumenti il sistema non arriverà lì il sistema vola basso ma se la scuola ha strumenti più articolati sofisticati approfonditi io qua ne cito due e adesso li qualifichiamo velocemente bilancio sociale impatto sociale ben venga di poter rivalorizzare la piattaforma si apre a questo adesso vi mostrerò come andiamo veloci rendicontazione cosa intendiamo tecnicamente per rendicontazione se avessimo voluto fare meramente la rendicontazione avremmo fatto un sistema di questo tipo ma a mio avviso avremmo fatto il male delle scuole perché perché ritorniamo al discorso di prima ormai avete tutte le parti del puzzle dove semplicemente comporlo nell'autovalutazione le scuole hanno fatto priorità e traguardi se avessimo voluto fare una accountability amministrativa centralista avremmo detto adesso ti metto il risultato perché buona parte di quei risultati li abbiamo noi come dati a sistema e questo sarebbe stato un disastro perché questi passaggi probabilmente dobbiamo qualificarli meglio quindi non è una rendicontazione amministrativa anche tant'è che questo passaggio c'è ma non è questo che qualifica il sistema di valutazione qui saremmo proprio davanti a una accountability di tipo istituzionale anzi se volete c'è proprio De Mauro che nel suo edizionale di Neologismi mette come primo termine accountability e dice lo dico volentieri perché non è un problema di saper tradurre quel termine che in Italia in effetti non è facilmente traducibile accountability ma è che noi in Italia non abbiamo la cultura del dare conto della rendicontazione non è un problema di lessico è un problema di cosa significa dare conto con responsabilità dei propri risultati e in effetti avete visto che nella direttiva numero 11 si diceva attenzione bisogna fare in modo che si accompagnino quei risultati direttiva numero 11 2014 con un rapporto sociale ovvero la scuola che deve dare conto di quei risultati descrivendoli perché il numero in sé il dato che potrebbe portare il ministero potrebbe essere una grande falsificazione qualunque dato se non è spiegato e contestualizzato è un disastro e quindi la scuola che deve dire l'ho raggiunto non l'ho raggiunto perché come cos'è subentrato eccetera eccetera e noi dobbiamo affidarci alla scuola affidarsi delle scuole ecco perché c'è un livello di descrizione che poi vedremo nella piattaforma altrimenti non si capisce perché la piattaforma è costruita così c'è un terzo passaggio che è normativamente previsto ed è la rendicontazione che diventa sociale ovvero passa da una comunicazione amministrativa scuola centro a una comunicazione interna staff gruppo di lavoro a un livello di tipo pubblico il ministero vi faciliterà e adesso vedremo pubblicandolo in scuola in chiaro in automatico ma non è lì che si fa il pubblico perché il pubblico dice la stessa normativa diventa soprattutto un livello di accompagnamento condivisione con la comunità di appartenenza professionale e sociale quei genitori nelle scuole superiori anche quegli studenti che sostanzialmente che hanno preso come riferimento per la crescita quella scuola è lì che bisogna condividere questi passaggi quelli che comunemente vengono chiamati come i propri stakeholder in particolare da qui arriviamo anche ad altri strumenti il sistema di valutazione non andrà sul bilancio sociale però questo è lo strumento ad oggi più diffuso di rendicontazione interna delle scuole anche perché la stessa direttiva del 2006 lo sollecitava in questo caso vi dico semplicemente che il bilancio sociale non solo ma in particolare si concentra su un aspetto su cui noi nella rendicontazione sociale del ministero non andremo ed è l'uso delle risorse quindi un forte collegamento fra bilancio e pianificazione di quel miglioramento cioè va bene mi sono andato con le priorità ma cosa ho investito lì economicamente professionalmente questo elemento capite che è un elemento molto interessante ma anche più strutturato sofisticato e complesso e notate bene fra l'altro che i programmi programma annuale bilancio delle scuole sono su base solare a livello annuale e qui siamo su base scolastica a livello triannale quindi elementi molto più complessi e per chi volesse strumenti ancora più articolati ancora più approfonditi come il bilancio di impatto dove allora l'idea è evidenziare come la scuola ha contribuito al valore di quel territorio e ci sono delle scuole che hanno fatto la differenza in quel territorio anche e soprattutto alcune scuole paritarie che proprio perché c'era quell'offerta formativa con quella qualificazione si sono formati quei tecnici che hanno fatto poi quelle aziende che hanno fatto poi la ricchezza che hanno fatto la società e qui però capite che il respiro è molto ampio molto interessante e benvenga che le scuole possono intraprendere ma se noi portassimo le scuole a fare strumenti di questo tipo le scuole ci odierebbero perché bisogna invece avere un approccio di tipo progressivo e benvenga invece ripeto che le scuole possono intraprendere percorsi di maggior significato rispetto alla rendicontazione e allora arriviamo alla rendicontazione cosa portare in rendicontazione noi ci concentriamo in particolare su questi due aspetti gli elementi derivanti e dalle priorità di miglioramento RAV gli elementi derivanti dagli obiettivi formativi definiti dalla normativa comma 7 legge 107 che definiscono il piano triennale questi sono i nostri due punti di riferimento all'interno chiaramente c'è la pianificazione di miglioramento da parte delle scuole però il ragionamento nostro sarà questo tant'è che adesso vedremo la piattaforma ed è finita su questi passaggi questa è la tempistica della piattaforma l'abbiamo aperta il 30 maggio per scuole paritarie adesso in realtà da settembre e la terremo aperta fino a dicembre e da qui in effetti per chi vorrà collegato col piano triennale eccola qua la possibilità poi di arrivare anche un po' in automatico alla piattaforma la struttura è questa della piattaforma abbiamo contesto perché perché non c'è strumento che non parta dagli elementi di contesto il rapporto di autoritazione piano triennale è definito dagli elementi di contesto e ovviamente adesso lo recuperiamo nella rendicontazione qualunque documento in letteratura che parla di rendicontazione parte dal contesto nulla di nuovo in realtà il cuore sono i risultati la rendicontazione è finalizzata lo dice la normativa lo dice la letteratura a dare conto i risultati raggiunti ed ecco lì declinati come dicevo prima dagli elementi derivanti dal rapporto di autoritazione dagli elementi derivanti appena triennale l'offerta formativa la rendicontazione apre la nuova triennalità quindi prospettive di miglioramento e per chi vuole per chi è interessato e ha già non deve farlo adesso non esiste ma ha già strumenti definiti nel tempo costruiti bilancio sociale non fatemelo più ripetere benvenga di poterli mettere a disposizione e da parte nostra di pubblicarli all'interno del sito pubblico del ministero scuole in chiaro entriamo nel merito contesto e risorse contesto e risorse per quanto riguarda il rapporto di autovalutazione costruito in questo modo adesso l'abbiamo visto prima e voi lo conoscete ovvero è definito attraverso quattro aree di riferimento e quello che noi faremo è che nel momento in cui una scuola ha già definito il proprio rapporto di autovalutazione all'interno del sistema di valutazione la piattaforma non fa nient'altro che precaricargli tutto quello che aveva scritto nel rapporto di autovalutazione quindi in questo caso per quanto riguarda il contesto la scuola non deve fare nulla si trova caricato come ha definito il contesto all'interno dell'ultimo rapporto di autovalutazione noi non facciamo nient'altro che prendere quello che avete scritto e caricarlo una scuola vuole integrarlo lo può integrare lo vuole completamente rifare quel contesto cioè quella descrizione del contesto la può completamente cancellare e rifare è ovvio che più vi sono elementi di continuità più dà l'idea alla scuola di un processo integrato organico ma è indubbio che io stesso vi consiglierei di non pubblicare o sì che sempliciter ma di provare a rivederlo nell'ottica della rendicontazione quindi non partite dal contesto io vi suggerirei non partite dal contesto per fare la rendicontazione partite risultati e poi vedete declinare meglio quel contesto in relazione alle scelte che fate sui risultati perché è impossibile rendicontare il tutto voi vi concentrerete su spero poche e chiare cose e quelle cose dovrebbero essere maggiormente qualificate anche dalla descrizione del contesto quindi il ragionamento è questo e in effetti ecco qua il passaggio è quello su cui concentrati i risultati su cui mi soffermo un attimo la piattaforma è fatta in questo modo quando entrate trovate sulla vostra sinistra un menu e poi man mano cliccate cliccando su risultati raggiunti vedete che vi si apre questa finestra nella finestra parte prima cosa avete gli elementi derivanti dal rapporto di autovalutazione ormai avete capito quindi sono le stesse aree del rapporto di autovalutazione e ecco qua due parti dicevamo l'area collegato con la progettualità della scuola che è collegata con il piano triennale dell'offerta formativa adesso lo trovate definito in una struttura comune altrimenti se avessimo detto le scuole secondo me rendicontate io credo avremmo creato sconcerto nelle scuole in questo modo capite che è un processo accompagnato e molto libero perché adesso vedrete che comunque è molto libero bene allora una scuola dice ok inizio iniziate dagli elementi derivanti al rapporto di autovalutazione cosa succede che una scuola ha già caricato le proprie priorità i propri traguardi e quindi si troverà cliccando precaricati priorità e traguardi quindi quello che avete voi avete scritto nel rapporto di autovalutazione noi lo prendiamo dal rapporto e lo mettiamo nella rendicontazione quindi tutte le priorità tutti i traguardi è che la scuola dal 2014 allo scorso anno scolastico attenzione stiamo parlando del rapporto 2019 quello è per il 19-22 quindi fino allo scorso anno in realtà stiamo parlando del 18 sostanzialmente il rapporto 18 tutto quello che avete definito nel rapporto di autovalutazione noi ve lo precarichiamo questa è una scuola è una scuola vera giusto per fare un esempio quindi solo come esemplificazione ne abbiamo presa una casuale e l'abbiamo caricata ed ecco che lei nei risultati scolastici quindi siamo come vedete nei risultati scolastici ha messo lo leggete come priorità innalzare il numero degli alunni a messa a successiva è una priorità per lei migliorare il successo scolastico è aumentare il numero degli alunni cioè diminuire il numero di non ammessi ovvero aumentare i promossi sostanzialmente e in questo caso vedete che ha detto che vorrebbe aumentare del 10% e naturalmente in relazione al proprio dato di partenza come seconda priorità ha messo aumentare il numero degli alunni che superano l'esame di stato con voto 8-9 quindi capite che siamo nel primo ciclo media sostanzialmente scuola media raggiungendo vedete il traguardo la media regionale degli alunni che superano l'esame di stato con voto 8-9 cioè qualificare ulteriormente l'eccellenza sostanzialmente è una scelta che ha fatto la scuola si poteva definire meglio secondo me sì però secondo me già questo è un bel lavoro già questo è un bel lavoro poi possiamo migliorare anzi se potessi darvi un consiglio e non mettete mai dei dati secchi mettete sempre una tendenza perché il 10% perché non l'8 perché non il 12 mentre è interessante collegarsi con un punto di riferimento un benchmark vostro una tendenza su cui indirizzarsi però per dire tutti questi elementi possono essere anche di accompagnamento formativo l'idea nostra è di accompagnare le scuole ripeto bene cosa fa la scuola semplicissimo quindi vedete che fin qua è tutto precaricato è la scuola che sceglie se noi avessimo voluto essere muscolari e non vogliamo assolutamente esserlo avremmo dovuto ok adesso ti sei messo queste priorità questi traguardi adesso rendi conti no una scuola può scegliere liberamente su cosa collocarsi questa scuola può scegliere di contare tutte e due queste priorità con questi traguardi può scegliere di contarne una può scegliere di non di contarne nessuna ammettiamo come esempio che decide di contare la prima clicca avete visto che sopra è tutto intuitivo c'è la matita vedete la matita clicca sulla matita entra dentro ormai chi usa i sistemi informatici si trova qua c'è la guida quindi c'è una guida fatta di un centinaio di pagine ma quello è proprio per chi vuole ammazzarsi vi chiederei proprio di farlo intuitivamente altrimenti però se volete passo passo la guida vi accompagna c'è anche un tutorial l'idea ripeto è di sostenere quindi più strumenti abbiamo meglio è entra all'interno e si trova precaricato chiaramente perché sta rendicontando adesso sta rendicontando quella priorità e quel traguardo cosa fa il sistema semplicissimo il discorso di prima il ragionamento adesso viene qualificato dello strumento dice dimmi che attività hai svolto per raggiungere quel traguardo cioè sono io scuola che ti qualifico cosa ho fatto e descrivimi il risultato ma attenzione per descrivere quel risultato io mi fermerei un attimo andrei a vedere prima il risultato qual è il risultato? ecco io partirei da qua per facilitare il sistema cosa fa? vedete che lì sotto c'è Naviga Indicatori quindi io entrerei gli indicatori in questo caso la scuola non ha fatto nient'altro che porre quella priorità su un indicatore questa priorità è collegata con RAF area risultati scolastici indicatore successo formativo cioè è già dentro un indicatore noi non facciamo nient'altro che caricarvi gli indicatori vedete lì qua tutti declinati esiti scrutini trasferimenti cioè sono tutti elementi per le scuole paritarie alcuni li abbiamo sistema altri no ma l'idea di metterli man mano se collaboriamo tutti a sistema entrando all'interno la scuola si trova i dati in sequenza storica perché? perché la vera rendicontazione dovrebbe essere così cioè dovrebbe essere io che comunque valido quei risultati quindi va bene la scuola infatti la scuola che sceglie la scuola dice io mi pongo lì o non mi pongo lì decido io cosa rendi contare quindi non siete obbligati a rendi contare le priorità dei traguardi ma quello che voi sceglierete ma nel momento in cui lo scegliete bisogna che ci sia un dato il sistema non fa nient'altro che facilitarvi dicendo vi precarico io i dati che ho a sistema e in effetti vi troverete precaricati ad esempio le prove standardizzate le abbiamo noi precarichiamo tutte e voi potete se ritenete opportuno se avete un indicatore un traguardo su cui potete rendi contare in questo caso la scuola vedete che se vuole flegga vedetela in alto e allora questo grafico va all'interno della rendi contazione ma se non flegga non va all'interno quindi è tutto completamente libero noi mettiamo a disposizione tutto compreso i dati se una scuola gli piace quel dato dice ok io lo uso se non gli piace cosa fa allora dice no questo dato a me non convince quindi non fa nient'altro che ritornare indietro e vedete sotto c'è l'altro pulsante è allega evidenza non c'è rendi contazione senza possibilità di dare un'evidenza sul proprio risultato e in questo caso la scuola dice ce l'ho io il dato e quindi ti metto i miei dati e molte scuole hanno già strutturato percorsi con dati in documentazione e quindi in questo caso il sistema non fa nient'altro che mandarvi nel vostro computer sul vostro desktop e voi metterete l'allegato che avrete predisposto con il dato collegato con quell'indicatore o comunque con la priorità e quel traguardo tutto il sistema è questo quindi uno noi precarichiamo tutto se volete mettiamo a disposizione alcuni dati che trovate in naviga indicatori in sequenza storica da 2014 ad oggi elementi che dobbiamo sempre meglio qualificare dialogando con le scuole paritarie eccetera eccetera ma se una scuola dice no quel dato non mi piace perché il ministero non l'ha ben definito o addirittura è sbagliato la scuola giustamente dice io nella mia autonomia la mia responsabilità ti dico che questo è il mio dato e il ministero lo pubblica per dire proprio massima trasparenza chiarezza fiducia nei confronti delle scuole lì eravamo al primo passaggio giusto collegato visto che tutti state seguendo mi fa piacere ormai ci siamo quello era collegato con il rapporto di autovalutazione secondo passaggio dicevamo progettualità della scuola ovvero piano di un'offerta formativa se sul rendicontare priorità e traguardi arrivanti al rapporto secondo me nelle scuole paritarie anche nelle scuole statali anzi ho visto delle cose che voi umani non potete immaginarvi però se qualche scuola si trova in difficoltà può fare a meno di rendicontare anche tutto ciò che ha caricato sul rapporto di autovalutazione può fare a meno ma di sicuro secondo me troverà qualcosa collegato con la propria progettualità cosa facciamo per facilitare le scuole entrando in progettualità vedete che avete precaricato praticamente gli obiettivi formativi derivanti dal comma 7 scusate se cito queste cose qua e vi annoio tutti però per dire che è normativa della legge 107 su cui ogni scuola avrebbe dovuto costruire il proprio piano dell'offerta formativa perché la normativa dice che quel piano è libero ma alcuni passaggi dovrebbero essere comuni e quindi si sollicita la scuola a fare attenzione ad alcuni di questi obiettivi che diventano gli obiettivi di indirizzo strategico a livello nazionale io non so quali di questi obiettivi la scuola ha declinato qui non facciamo nient'altro che caricarveli tutti qua ho messo solo i primi 3 o 2 quelli che sono ma immaginatevene 18 perché il legislatore se andate a vedere non si è risparmiato trovate tutto colleghi trovate tutto cioè dall'inclusione al bullismo al sarebbe il bullismo alla scuola aperta di tutto di tutto e naturalmente la scuola qua dirà ok cioè io rendi conto questo aspetto perché su questo aspetto io ho qualificato la mia offerta formativa e il ragionamento è quello di prima non fa nient'altro che cliccare entrando all'interno si troverà precaricato l'obiettivo che ha cliccato questo trova precaricato quello non può modificarlo quello è il legislatore che l'ha detto non è che adesso dite te lo modifico io l'ha scritto male l'ha scritto il legislatore alcuni si sono scritti male però non diteglielo però l'ha scritto lui è quello e voi non fate nient'altro che eccolo qua discorso di prima attività svolte risultati ti metto un dato ti metto un'evidenza non iniziate a scrivere i risultati prima di aver capito qual è l'evidenza prima andate a vedere qual è il risultato nel dato poi lo descrivete ovviamente sembra logico cioè queste cose sono facilmente sono di senso comune chiudo e abbiamo proprio chiuso dicendo attenzione torno indietro se una scuola non si ritrova nelle priorità derivanti al rapporto di autovoltazione non si ritrova negli obiettivi formativi che il legislatore ha messo a fondamento del piano triennale ovvero della priorità della scuola può aggiungere vedi può aggiungere qualunque altra cosa non è questa la rendicontazione nel 2022 non potremo arrivare qui perché chiaramente nel 2022 se una scuola ha dichiarato qualcosa dovrà documentarlo però per dire che in questo momento una scuola può mettere quello che ritiene opportuno senza necessità di vincolarsi a delle cose magari che sono state definite bene non sono state definite bene con l'ottica di definirle meglio dal 19 al 22 in effetti vedi che c'è aggiungi quindi cliccando su aggiungi praticamente si apre uno spazio vuoto e può mettere quello di reti inopportuno lì non c'è obiettivo formativo ma immaginatevi uno spazio vuoto la leghe evidenze e via terzo passaggio è banalissimo ed è prospettiva di sviluppo è un campo vuoto dove la scuola dice siccome ho fatto questa analisi del triennio precedente per il prossimo triennio mi prefiguro immagino cercherò di pianificare strutturare monitorare eccetera eccetera questi aspetti cioè è quello che dovrebbe poi aprire il rapporto di autolutazione e da lì il prossimo piano dell'offerta formativa e ultimo passaggio altri documenti rende contazione quindi se una scuola ha altri documenti più articolati sofisticati approfonditi quello che dicevo prima bilancio di emissione bilancio di impatto eccetera eccetera in questo caso vedete che li può inserire li descrive brevemente una riga e vengono allegati alla rendicontazione perché poi alla fine si va a finire in scuola in chiaro quindi quando si clicca pubblica in automatico non dovete fare nulla non come prima dovevate caricare il piano triennale poi qualcuno si dimenticava molti si sono dimenticati eccetera eccetera in automatico va a finire in scuola in chiaro cosa succede in scuola in chiaro vedete questa è già la struttura di scuola in chiaro la definizione della scuola sistema di valutazione piano triennale dell'offerta formativa per chi ha usato la piattaforma per chi non l'ha usato comunque caricherà il proprio piano triennale perché la normativa dice che devono essere pubblici e pubblicati chiaro nel sistema nazionale di valutazione cliccando si aprono praticamente due finestre e vedete che c'è il rapporto di autorizzazione rendicontazione sociale in rendicontazione quello che facciamo non è nient'altro che fare un sistema navigabile quindi docenti genitori stakeholder coloro che sono interessati potranno navigare la vostra rendicontazione quindi quello che avete scritto eccolo lì in contesto risultati prospettive entrando all'interno navigheranno quello che vi avete scritto quindi non nasce per essere stampata poi se una scuola vuole perché San Tommaso bisogna toccare eccetera eccetera vuole può stampare quindi vedete che c'è pdf stampa e purtroppo qualcuno che già lo sta facendo mi dicono che stampando viene proprio un bel documentino con tanto di bella purtroppo quindi la prossima volta lo faremo brutto affinché non si possa stampare perché se a qualcuno viene voglia di stampare è un bel disastro cioè non è perché l'idea nasce invece per essere velocemente navigabile ormai gli strumenti sono questi non è più una volta 2, 7, 5 ogni scuola doveva fare il pof e consegnarlo tant'è che ogni scuola cosa faceva non faceva il pof faceva il famoso pofino non è più quella la logica cioè ormai ci sono altri strumenti che vengono di poter valorizzare anche per salvare un po' le foreste insomma chiudo tipicamente chiudo con un po' di enfasi perché so di essere stato molto magari pesanti in alcuni passaggi perché sono anche molto istruttivi cioè spero che siano stati perlomeno informativi ma l'idea non è questa l'idea in realtà di questi strumenti nel momento in cui parliamo di rapporto di autoritazione piano triennale rendi contazione come giustamente avete intitolato i fondamentali l'idea nostra è di supportare quella scuola per qualificare maggiormente la propria idea di scuola di offerta formativa per qualificarla io pensavo di farlo con proprio quattro fotografie e perché dentro prima di intraprendere qualunque percorso dovrebbe provare a ragionare su cosa intesta quella comunità professionale quando entra in quel contesto scolastico che allora definisce quell'offerta formativa per poter far questo io mi sono permesso di riprendere questa fotografia che molti di voi se la ricorderanno era all'interno del sito del nostro ministero in alto a sinistra quando prevate il sito del ministero compariva questa fotografia non dovete immaginare che la foto di una classe questo è proprio un set fotografico costituito intenzionalmente ovvero qui c'è una comunicazione qual è l'idea che abbiamo in testa che si voleva dare rispetto ai processi di insegnamento apprendimento c'è un'idea di apprendimento secondo me sì quegli isti formativi educativi dove pulsa il cuore della scuola c'è un'idea di cos'è un risultato scolastico secondo me sì di cos'è un processo che lo determina secondo me sì c'è un'idea di studente cittadino futuro cittadino a mio avviso sì per capirlo ve lo mostro attraverso un processo tipo comparativo perché il sistema è comparativo apro il sito di un altro ministero questi sono gli inglesi e vedete che c'è un'altra fotografia c'è un'altra idea non c'è la scuola ci sono le nostre idee che si qualificano in quell'identità che fa la scuola e vedete che gli inglesi mettono in mostra un altro non dico che è bene male questo aspetta a voi e in effetti sarebbe interessante capire la fotografia che hanno in testa i nostri insegnanti quando entrano in quella scuola perché è da lì che poi si determina la qualità sostanzialmente se volete vado avanti quindi commentatele voi fra di voi questi sono i francesi i francesi mettevano fotografie di questo tipo e vedete che abbiamo genitori che accompagnano i figli a scuola quanto di quel risultato è determinato da quel patto da quegli elementi di accordo fra genitori famiglia scuola tantissimo quindi capite tutto un altro oppure notate bene il maestro Averne che lavora in piedi con i propri studenti cioè un'idea laboratorio tipici attività didattica di un certo tipo eccetera eccetera se vado avanti vedete questi sono sono i tedeschi se anche non ve l'avessi detto voi avreste detto ma questi sono tedeschi perché sono così cioè vedete che sono molto definiti strutturati puntuali eccetera eccetera e fa parte della loro cultura benvenga averne rispetto anche alla finalità della scuola la finalità è un loro archetipo questo che comunque loro in quel mondo contano eccetera eccetera ma e io chiudo se io dovessi collegare quello che dicevamo come incipit ovvero che noi stiamo ragionando in particolare su mettere in atto una migliore offerta formativa che sviluppi quella persona che di opportunità a quella persona attraverso la missione della scuola che è formazione ed educazione quelli che hanno i migliori risultati al mondo o perlomeno quello che consideriamo come i migliori risultati al mondo tutto da definire però che li consideriamo che immagini di scuola loro hanno io apro il sito del loro ministero e ti trovo un'immagine di questo tipo capite che c'è un'altra idea di scuola c'è un'altra idea di persone di futuro dovremmo ripartire da ragionamenti di questo tipo io vi ringrazio per la vostra attenzione proviamo adesso magari anche a dialogare con qualche domanda grazie a voi se proprio volete per coloro che sono proprio insomma che si vogliono fare del male sono masochisti c'è anche un testo dove tutti questi elementi compreso piattaforma note eccetera eccetera vengono descritti proprio per facilitare le scuole in questo processo grazie poi ecco comunque è già stato detto in precedenza tutte le slide saranno inserite al termine del ciclo degli incontri che sarà il 4 ottobre sia sul sito del CDO che sul sito della FIDE ma poi Paola darà alcuni dettagli io volevo chiedere questo perché abbiamo lavorato tanto su questi aspetti il famoso discorso dei codici meccanografici che nei prossimi anni dovrebbe essere risolto perché l'orientamento da parte del Ministero è quello di modificare tutti i codici meccanografici sia per la scuola statale che per la scuola paritaria però per noi per quanto riguarda il RAV compilazione e quant'altro è stato sempre una difficoltà perché non abbiamo un codice che va a identificare l'istituto ma tanti codici quante sono le scuole che fanno parte dell'istituto un primo tentativo è stato quello del famoso censimento a cui siamo stati chiamati volevo ecco proprio per dare questa informazione in che misura porterà un cambiamento perché attualmente la scuola diciamo dell'istituto che diventa capofila aveva tutto eptof e quant'altro sulla scuola in chiaro le altre realtà no ecco ci sarà una modifica già da quest'anno oppure dovremmo attendere poi i codici che andranno a identificare gli istituti e poi le scuole afferenti a quell'istituto grazie suor Virginia per la domanda e anche per altre domande perché in effetti ho fatto un aggiornamento di tipo generale adesso benvenga invece di toccare anche alcuni aspetti specifici e tecnici come diceva adesso suor Virginia il sistema di valutazione non ha competenza per l'anagrafica delle scuole quindi quello compete a un'altra direzione se volete che è la DG Casis che si è presa l'impegno in questo anno scolastico in effetti di fare una vera anagrafica delle scuole paritarie al fine proprio di facilitare questi percorsi tipo identificativi ma non perché dobbiamo identificare la scuola ma perché capite che ad esempio questi strumenti se no per quello che mi riguarda gli strumenti collegati al sistema di valutazione non sono collegati non si capisce dove nascono e dove vanno a finire questo è il nostro ragionamento quello che noi abbiamo fatto giustamente come si diceva adesso è di anticipare il sistema perché dovendo noi fare il nuovo piano triennale cioè capite che se non identificavamo il sistema come abbiamo fatto la scorsa volta dove le scuole paritarie hanno fatto il rapporto di autolutazione ma io sinceramente non so quante scuole paritarie lo hanno fatto quando lo hanno fatto a cosa lo hanno collegato eccetera o meglio lo so però capite che non ho una rappresentazione organica del sistema ecco perché abbiamo detto agli uffici praticamente collegati quello di G Casis che avremmo anticipato nel sistema e in effetti abbiamo iniziato tant'è che chi ha già fatto questo censimento non dovrà fare nulla noi scarichiamo questi dati all'ufficio che è competente per la grafica delle scuole e chiaramente userà questo identificativo che poi le scuole dovranno confermare eccetera eccetera adesso veniamo a noi ed è che problemi adesso si presentano allora nel momento in cui una scuola si è identificata cioè quindi codice meccanografico che prima io ho detto codice identificativo però per dire che c'è un codice madre e sotto ci sono quel codice madre lo ha deciso la scuola cioè se una scuola va dalla primaria alla secondaria e ha deciso di mettere il codice madre sulla secondaria di primo grado cioè l'ha deciso lei non implica nulla era semplicemente per dire guardate il mio istituto è composto da questa offerta formativa non era perché dopo non noi dopo dici casi lo farà diventare una carta di identità ma dopo e questo ragionerete con loro praticamente adesso se una scuola aveva fatto il rapporto di autovalutazione quindi prima di tutto questo percorso non fa nient'altro che collegarsi adesso con la rendicontazione quindi ha fatto già dal 2014 15 16 17 perché poi qualcuno è entrato prima qualcuno è entrato dopo ha fatto il rapporto di autovalutazione se ha fatto il rapporto di autovalutazione in automatico praticamente questo è collegato con la rendicontazione perché i dati li abbiamo sistema noi e questo è il passaggio già storicizzato adesso arriviamo invece al codice una scuola aveva fatto il rapporto di autovalutazione adesso ha fatto il censimento e quindi dice attenzione che la mia scuola è composta così è uguale a quella del rapporto di autovalutazione che qualche scuola aveva fatto più rapporti di autovalutazione ad esempio qualche scuola lo so bene mi hanno chiamato mi hanno scritto ha detto il mio istituto va dalla primaria alla secondaria io preferisco farne uno per la primaria uno per secondaria di primo gradi e ha fatto così qui ne ha fatti tre qualcuno ne ha fatti due qualcuno ne ha fatti uno è chiaro che nel momento in cui c'è il codice identificativo con un unico istituto adesso c'è un unico istituto e quindi si troverà praticamente collegato quell'unico istituto ma da qui in avanti il ragionamento è che c'è la fatica iniziale ma da qui in avanti dovrà poi essere così nel momento in cui tu hai il codice identificativo tu entri e ti trovi una scrivania cioè dove noi man mano carichiamo tutti questi aspetti una scuola non ha fatto il rapporto di autovalutazione non ha la possibilità di fare la rendicontazione sociale nel momento in cui non l'ha fatto nel momento in cui si è censita sì perché in quel caso lì non rendi conterà il rapporto ma rendi conterà ormai voi me lo insegnate il piano triennale dell'offerta formativa perché non ha fatto il rapporto non abbiamo obiettivi e priorità ma il piano triennale l'avrà fatto o comunque può rendi contare quel che vuole nel momento in cui è entrato nel censimento nel momento in cui non ha fatto il rapporto 2014-15 non è entrato nel censimento 2019 può entrare adesso oppure è chiaro che non potrà operare se una scuola di nuova costruzione non deve fare la rendicontazione se una scuola nasce adesso o è nata lo scorso anno non può rendi contare perché chiaramente non c'è la storicità rendi conterà nel 2022 ma ben venga invece che inizi a fare la pianificazione dall'autovalutazione piano triennale per poi arrivare alla rendicontazione qui ragionamento sostanzialmente di questo tipo quindi se una scuola aveva fatto il rapporto di autovalutazione comunque può operare sulla rendicontazione se ha fatto il censimento avrà definito o in modo uguale quindi no problem o in modo diverso quella costruzione del censimento se l'ha definito in modo diverso è chiaro che non corrisponderanno adesso gli elementi e noi gli caricheremo quello con cui lui si è identificato poi lei ha già anche quello precedente possiamo caricarglielo anche noi però è chiaro che dovrà rendi contare costruendo lei la situazione ma da qui in avanti ciò che ci interessa non è tanto il collegamento con il rapporto di autovalutazione ma è invece il percorso che dal 2019 al 2022 intraprende quindi ben venga di poter fare il censimento se uno non ha fatto il censimento il censimento è continuamente aperto è continuamente aperto lo manterremo continuamente aperto fino a dicembre e quindi io vi consiglio di entrare lì altrimenti operate in modo non congruente al sistema questo è il ragionamento chiedo una precisazione su questo facciamo l'esempio della scuola che ha fatto tre rapporti di autovalutazione cioè noi tendenzialmente so che tante scuole abbiamo proprio cercato di far riunire gli anni scorsi però mettiamo il caso della scuola che ha fatto tre rapporti di autovalutazione quindi uno per la primaria uno per la secondaria di primo grado uno per le superiori oggi avrà caricato quello del codice madre a cui lei si è ispirata nel fare il censimento e i dati degli altri due possono essere caricati no per capire come muoversi perché dopo di che avrà una scuola madre d'accordo ma che non è sarà la complessità due rispetto ai questionari cioè io capisco che a volte la scelta di alcune scuole di fare più rapporti di autovalutazione o più questionari è legata al fatto che quando ti trovi a dover dare dei dati complessivi sull'istituto che ha comunque delle specificità per cui alla primaria hai certe cose alla secondaria ne hai altre è difficile nel questionario riuscire a dare un'organicità se anche su questo può darci fra l'altro anche grazie sui questionari perché abbiamo collaborato in modo molto attivo con alcuni rappresentanti vostri perché in effetti noi abbiamo fatto un questionario pensando a un modello di scuola poi c'è tutto un lessico un articolazione specifica delle scuole paritarie che abbiamo cercato di dialogare un attimo insieme e se riusciamo a qualificarlo ancora meglio non il prossimo anno l'idea del questionario è triennale cioè quindi l'idea è di fare anzi fatemi fare una parentesi lo stesso rapporto di autovalutazione nel tempo le scuole hanno pensato come rapporto annuale e noi non abbiamo voluto forzare e in effetti alcune delle vostre scuole sono entrate e hanno cambiato ogni anno priorità e traguardi non va bene perché il rapporto nasce come rapporto tipo triennale in effetti ciò che adesso andiamo a definire come rapporto di autovalutazione 19-22 le priorità e il traguardo nascono come priorità e traguardi che la scuola intende raggiungere nel triennio quindi se una scuola non ha elementi eccezionali che subentrano dovrebbe mantenere l'uso condizionale perché le scuole poi saranno libere e noi lasceremo libere ma dovrebbe mantenere il triennio mentre molte scuole ogni anno entravano e ogni anno praticamente modificavano e noi non facciamo nient'altro che mantenere la memoria e caricargli tutto però ripeto se non subentrano elementi eccezionali aggregazione di plessi cancellazione di plessi eccetera eccetera quelle priorità e quei traguardi dovrebbero essere mantenuti nel tempo punto 1 secondo passaggio pluralità di rapporti di autovalutazione unica rendicontazione nel momento in cui la scuola ha fatto il censimento ovvero ora se una scuola ha lavorato bene si trova già definita anche in precedenza però può essere che qualche scuola abbia fatto più rapporti di autovalutazione firmi adesso torniamo allo specifico della rendicontazione lo specifico della rendicontazione non è portare tutto quindi noi vi carichiamo in automatico il codice identificativo e quindi quel rapporto collegato col codice identificativo della scuola principale e se volete vi carichiamo anche gli altri ma l'idea non è che adesso noi dobbiamo rendere conto di tutto come dicevo prima ma nel rapporto di autovalutazione nella pianificazione offerta formativa dovete andare a scegliere poche chiare cose da andare a rendicontare che questi siano collegati con un rapporto della scuola primaria secondaria o con quello con la scuola principale nulla toglie perché poi alla fine non è nient'altro che priorità e traguardo che scrivete in 30 secondi colleghi di questo stiamo parlando quindi non preoccupiamoci per ora secondo me della rendicontazione perché quella come avete visto è molto aperta e molto libera preoccupiamoci di fare bene il percorso successivo che è quello che va dal 19 al 22 che capite alcuni elementi dobbiamo regolarli uguale sul questionario scuola infatti il questionario scuola l'abbiamo regolato velocemente con l'apporto dei vostri collaboratori però elementi specifici maggiormente per la scuola paritaria non solo nell'ESC ma proprio come caratteristica secondo me da qui in avanti possiamo dirceli e poi integrarli con la scuola paritaria se la scuola paritaria intendesse fare un percorso anche di come dire approfondimento specifico nulla toglie che in accordo con il sistema di valutazione si possono aprire negli anni successivi elementi specifici per la scuola paritaria però un quadro di riferimento comune quindi noi manterremo comunque lo zoccolo comune poi se si voglia non si possono fare degli approfondimenti con altri questionari o con altre sulle citazioni il sistema è un sistema aperto anche agli specifici anche alle peculiarità ad esempio può essere che anche noi quest'anno solleciteremo le scuole ad avere alcune attenzioni ma perché? perché la politica scolastica che in Italia ha molta capite sto cercando un eufemismo cioè insomma ha delle perturbazioni ha delle attenzioni diverse quest'anno c'è un'attenzione su cui probabilmente faremo uno specifico che non era previsto nel piano triennale dell'offerta formativa ma se anche non lo facessimo noi come ministero secondo me ogni scuola dovrà averlo che è tutto ciò che è collegato con educazione civica perché è vero che non entra in vigore quest'anno mentre era in vigore il prossimo anno e qualche ragionamento la scuola probabilmente dovrà iniziare a farlo non in un'ottica come era prima di sperimentazione obbligatoria Dio ci aiuti ma di intraprendenza personale quindi per dire ci sono anche degli specifici che ogni anno probabilmente potremo toccare approfondire eccetera eccetera e così vale anche per la scuola paritaria se volesse dialogare su alcuni passaggi io chiedo scusa perché devo scappare per un altro incontro pertanto auguro una buona continuazione ringrazio ancora anche da parte della FIDE la presenza del dottor Damiano Previdali che è sempre disponibile ecco raccomandiamo quello che già abbiamo detto altre volte magari le richieste necessità di farle alle associazioni e poi in modo unitario le presentiamo per evitare che tutti ecco perché comunque la risposta è sempre tempestiva do soltanto una comunicazione che dopo eventuali altri interventi e risposte ci sarà un break sul tavolo fuori troverete questi fogli predisposti per l'intervento successivo che poi il dottor Maffeo introdurrà la dottoressa Elena Maddalena e qui ci sarà già anche una dimostrazione di interesse però l'importante è che nella pausa ognuno prenda questo foglio io vi ringrazio e chiedo scusa ma ho il treno che devo raggiungere un'altra sede per un altro incontro comunque grazie e scusate questa interruzione farei adesso la pausa il professor Previtali si ferma quindi se c'è desiderio anche no no dopo la pausa io parlo ah no allora se ci sono domande ma adesso mi firmo in cosa fermare ma non dopo la pausa no ci sono domande ma durante la pausa si si mi rito un cartefone in piedi si un attimo solo che vengono col microfono magari raccogliamo le domande non è acceso buongiorno come tutti come tanti ho fatto il censimento al mio nominativo sono stati associati più codici meccanografici nel giro poi del termine previsto il 9 settembre abbiamo compilato il questionario quello che mi aspettavo ingenuamente è che avendo dichiarato che i due codici erano riferiti alla stessa istituzione scolastica pur avendo ordini di scuola differenti che il questionario fosse unico invece entrando mi veniva richiesto di compilare il questionario sia come scuola primaria che come scuola secondaria a quel punto mi è sembrato di fare cosa normale riportando i dati riferiti alla primaria e alla secondaria distinti la domanda che mi pongo però è questa in prospettiva futura io ho inserito dati distinti perché erano due questionari diversi ma in un'ottica di verticalità perché poi siamo nella scuola del primo ciclo quindi come nelle istituzioni scolastiche statali c'è una verticalità per cui le scuole del primo ciclo hanno un RAV unico eccetera dovrò ripetere il RAV per tutti e due i codici oppure no perché poi questo fa la differenza noi in passato avevamo scelto proprio in questa direzione di farne uno perché la scuola è una gli obiettivi finali sono quelli la ringrazio raccogliamo le domande buongiorno la mia domanda non è in particolare sulla sulla rendicontazione però su un elemento che è coinvolto e che è molto importante i risultati delle prove standardizzate nella scuola secondaria noi non abbiamo più la possibilità di conoscere le prove che sono sottoposte ai nostri ragazzi e non abbiamo come avveniva quando la prova era cartacea il risultato delle delle singole dei risultati delle singole domande per capire quali sono i punti di debolezza questo ci mette in perché per ogni per ogni domanda avevamo la restituzione se rispetto a quella domanda la risposta dei nostri alunni era superiore alla media nazionale oppure più bassa ed era una documentazione molto molto utile ora riflettere su questi dati senza avere gli elementi per poter valutare quello che è l'andamento dei nostri alunni ci mette in grossa difficoltà e quindi è come vedere se quest'anno è andato bene quest'anno è andato male ma perché e come non lo sappiamo quindi è una grossa carenza qualche anno fa quando abbiamo fatto il percorso anche nella FOI per la costruzione del RAV era stato abbinato anche ad un approfondimento rispetto ai dati dell'invasi che comunque essendo esterni alla scuola per noi sono un riferimento importante altrimenti ci chiudiamo un po' in una possibile autoreferenzialità ecco so che è una domanda un po' esterna però mi sta proprio qua noi avevamo fatto il vecchio RAV con il codice della scuola secondaria secondo grado perché era quello diciamo che abbiamo preso come codice madre adesso abbiamo pensato di farlo come primo ciclo per cui col codice madre della media il problema è che non riusciamo a far la rendicontazione sul nuovo codice e ci apre solo quella col codice della scuola secondaria secondo grado che non ci va più bene dovremmo farla con quella della media perché non è più nostra gestione poi c'è un'altra domanda allora a gennaio la nostra istituzione è composta da scuola dell'infanzia scuola primaria scuola secondaria di primo grado a gennaio abbiamo pubblicato il nuovo piano triennale abbiamo lavorato con le insegnanti in particolare prima di tutto col nucleo di valutazione sul nuovo sulle nuove priorità per i tre ordini di scuola e il piano di miglioramento quando a giugno ci siamo trovati come pubblicare il Rava abbiamo visto che naturalmente la scuola dell'infanzia era esclusa ora ci chiediamo tutto il lavoro che noi stiamo facendo per la scuola dell'infanzia lo accantoniamo è solo nostro o ci sarà comunque una piattaforma a parte un grazie ancora perché sono tutte domande molto specifiche e tecniche benvenga di poterle velocemente non approfondire delle risposte e poi altre domande benvenga che tramite la FOE la FIDE possiate raccoglierle loro fanno da sintesi e poi vi rispondiamo anche per iscritto primo passaggio allora la situazione è collegata con l'istituto e la pluralità di questionari in effetti è così cioè anche nel questionario che abbiamo fatto per le scuole statali vire giustamente una differenza perché l'offerta formativa e la struttura dell'offerta formativa o comunque anche la definizione laboratori progetti si differenziano in relazione anche alla tipicità di quell'offerta formativa mentre per quanto riguarda il rapporto di autolotazione no quindi assolutamente d'accordo cioè il lavoro che dobbiamo fare è di riuscire sempre più a qualificare uno strumento unico tramite il questionario a scuola che riassume più possibile la scuola nel suo complesso pur con alcune articolazioni beh capite che alcune articolazioni comunque devono essere mantenute nella specificità ma comunque il rapporto di autolotazione deve essere unico perché l'idea del rapporto di autolotazione piano triennale rendicontazione ha un minimo comune denominatore che è l'istituto e in quell'istituto l'idea di scuola la missione eccetera eccetera questo è il ragionamento secondo passaggio qui vi dico io due cose per l'invalsi però poi chiaramente dovrete dialogare un po' di più o perlomeno dovrebbe aprire un dialogo specifico per quanto riguarda l'invalsi da due anni ormai in effetti l'invalsi ha cambiato approccio e a mio avviso è stato un elemento di notevole semplificazione e qualificazione in quanto le prove su computer semplificano molto e aiutano anche molto la scuola immaginatevi a tutto il lavoro che dovevate fare rispetto alla correzione o anche elementi di qualificazione perché basterebbe dire che con le prove su computer abbiamo eliminato completamente il cheating perché non c'è più la possibilità praticamente di intervenire in quanto ognuno ha il suo computer le domande è completamente eliminato ve lo dico io è indubbio che questo però implica una situazione diversa perché prima uno aveva il proprio librettino e poteva vedere la situazione collegata con risposte giuste risposte non giuste e farsi un ragionamento questo per quanto non è possibile con lo specifico della prova perché altrimenti molte di quelle domande vengono regolarmente bruciate e questo è anche un passaggio che in questo modo non solo è semplificato ma c'è un passaggio anche di maggior come dire opportunità da parte dell'invasi perché alcune domande vengono mantenute nel tempo e sono così altre domande che poi ti permettono di arenare cioè di controllare il sistema nel tempo questo implica alcune difficoltà per le scuole ma non è del tutto così in quanto avete visto che l'invasi ha aperto un nuovo sito che titola Open Prove Invasi comunque se lo cercate lo trovate proprio in evidenza e lì trovate tutta una serie di esercitazioni di esemplificazioni su cui le scuole si possono ritrovare non voglio diventare troppo tecnico ma sulle scuole di invasi fate se ritenete opportuno approfondimento in realtà ci sono ulteriori opportunità che si aprono ancora più significative rispetto al passato perché perché in terza media per capirci in seconda superiore e in quinta superiore adesso abbiamo anche la restituzione individuale quindi prima non c'era neanche l'aggancio individuale quindi questo invece è una grande ulteriore opportunità che ci dà il computer perché c'è il livello proprio di istituzione le competenze italiano matematica inglese declinate per e questo è fatto su cinque livelli quindi addirittura voi potreste perché questi dati vengono restituiti allo studente vedere non solo la classe come era prima ma il singolo studente su quale livello e quali passaggi quello studente dovrebbe avere per rafforzarsi quindi c'è tutto un ragionamento nuovo a mio avviso ancora più interessante ancora più qualificante che il computer ci mette a disposizione abbiamo eliminato alcune opportunità condivido che prima sono presenti con la carta però se ne aprono delle altre bisogna percorrere questi altri processi perché non si torna indietro sostanzialmente terzo passaggio cambio codici in effetti è così cioè la scuola ha fatto il RAV e l'ha identificato su un codice adesso con il censimento ha ridefinito e identificato un proprio codice è chiaro che noi che siamo stupidi perché il sistema è stupido non ragiona il sistema vi immaginate 12.000 scuole non fa nient'altro che agganciare codice codice quindi quella scuola non si troverà il RAV perché il sistema ragiona in modo stupido qui dovete vedere voi cioè rispetto alla rendicontazione quello che dicevo prima cioè da qui in avanti il RAV diventa quell'istituto che si qualifica con quella situazione il RAV voi l'avete a disposizione ed è comunque pubblicato non viene scaricato nella rendicontazione però dicevo prima guardate che c'è poco da scaricare se volete ma se ritenete opportuno questo lo possiamo fare in un'ottica di semplificazione noi possiamo agganciarvi la rendicontazione a quel codice se ce lo chiedono 10 scuole non è un problema perché facciamo un lavoro manuale di aggancio 10 scuole se ce lo chiedono in 700 scuole no cioè ve lo dico subito diciamo che il sistema è stupido e resta stupido però se volete per qualcuno lo possiamo fare nessun problema scuola dell'infanzia grazie della domanda perché in effetti la scuola dell'infanzia è un elemento qualificante in particolare nelle paritarie perché grazie alle paritarie riusciamo a mantenere il sistema della scuola dell'infanzia in questo momento sapete che non c'è uno specifico del RAV scuola e infanzia ma c'è una sperimentazione quindi c'è una sperimentazione che abbiamo delegato all'INVAS che l'INVAS si sta conducendo in modo autonomo perché l'istituto autonomo gli indirizzi all'INVAS li diamo noi abbiamo detto attenzione ci serve anche forse è necessario avere uno specifico per la scuola dell'infanzia soprattutto per la scuola dell'infanzia collegata con le paritarie che sono a volte mono ordinamentali e monosezioni cioè al di là di quelle agganciate all'istituto e quindi in questo momento si ragiona su un RAV complessivo ma non c'è l'approfondimento scuola dell'infanzia entro quest'anno anno solare perché stiamo ragionando da qui a dicembre non ci sarà nulla sulla scuola dell'infanzia ma entro il prossimo anno scolastico cioè quest'anno scolastico quindi a maggio-giugno probabilmente avrete e ne ragioneremo insieme un RAV specifico peculiare con la scuola dell'infanzia su alcuni elementi di scolarizzazione dobbiamo avere uno specifico quindi uno grazie scuola dell'infanzia per quest'anno no entro dicembre con il prossimo anno scolastico ma sapete che il RAV lo apriremo a maggio e poi chiaramente lo terremo aperto anche il prossimo anno scolastico ci sarà uno specifico della scuola dell'infanzia in cui sta lavorando l'invalse allora sospendiamo per dieci minuti ricordo che chi desidera ritirare l'attestato deve firmare l'uscita e gli attestati sono già pronti i nominali per chi ha seguito e rimarrà solo per queste due ore chi rientrerà firmerà invece al termine alle 13.30 c'è la possibilità appunto di un caffè qui esternamente alle 12.00 meno 5 riprendiamo grazie